In gergo giornalistico quello che sentirete adesso si chiama coccodrillo ed è un pezzo che il sottoscritto non avrebbe mai voluto scrivere perché si tratta di un pensiero su una persona che passa miglior vita così si chiama la morte per renderla più accettabile ad amici e parenti e anche per chi ne è protagonista quasi per dare al difunto ancora la capacità di una speranza futura nell'affrontare l'ultimo viaggio nell'aldilà e allora iniziamo con un dolore sordo che solo un orfano può sentire perché la scomparsa di Gigi Riva è stata una perdita per intere generazioni che hanno visto in rombo di tuono una sorta di padre perché aveva 12 anni o poco meno quando il mitico Cagliari di Scopigno ma anche di Albertosi, Domanghini, Cera e appunto Gigi Nazionale vinceva tutto sino all'arrivare al mitico Scudetto nel 1970 e orgoglio fraterno per tutta la Sardegna la pastore di Desuolo sino al Tattarese che per una volta faceva il tifo per un rosso-blu ma del capo di sotto Gigi Riva, oltre che il mitico Bomber con 165 marcature nel campionato italiano e 35 gol in nazionale in appena 42 partite è stato l'orgoglio di un'isola che per la prima volta veniva rispettata e omaggiata nella penisola ultimamente si era chiuso in sé preferiva la riservatese della famiglia, nipotini in primis ieri l'ultima sua presenza in campo nessun tempo supplementare per lui forse poteva anche salvarsi con un'operazione al cuore neanche tanto complicata chissà cosa pensava quando ha chiesto tempo al chirurgo per rifletirsi sopra un uomo d'altri tempi da fare da esempio per tanti giovani che non hanno avuto come nulla possibilità di urlare ai suoi mitici gol o piangere quando ci lasciava le gambe in incidenti di gioco grazie